Ciao a tutti, sono Massimo Mellano e sono responsabile creativo di Imagination Farm USA e di Movie Farm SRL. Lavoro nel campo dell'audiovisivo e assieme a Danilo Cittino della Cospe SAS abbiamo deciso di lanciare un prodotto nuovo, un prodotto nuovo che si chiama Olo. È una serie di devices che possono essere usati su telefonini e su tablet di qualsiasi marca per creare delle proiezioni olografiche. Come funziona? Il telefono diventa il proiettore e l'Olo Collection diventa praticamente il telo su cui viene proiettato l'immagine e diventando un'olografia. L'Olo collection si basa su una serie di superfici riflettenti che in questo caso sono quattro perché è una piramide a quattro facce, in altri casi possono essere tre oppure monofaccia. Il soggetto olografico deve essere studiato in maniera un po' particolare con delle piccole attenzioni. L'immagine deve essere o funziona meglio se è all'interno della faccia e se è su uno sfondo nero perché sembra proprio navigare, fluttuare all'interno della piramide stessa. Per lanciare questo progetto, visto che è una start-up, abbiamo deciso appunto di approfittare della società americana Imagination Farm USA per approdare a Kickstarter questo sito americano nato circa quattro anni fa che si basa sul crowdfunding. Approderà su Kickstarter il 5 di agosto e tutti potranno vedere i nostri prodotti e quindi fare delle donazioni per far sì che il nostro prodotto possa decollare, quindi che la nostra produzione possa essere fatta. Avremo un target economico e speriamo a questo punto che il progetto piaccia a tutti. È un bel oggetto, ve ne innamorerete sicuramente. Grazie.